Pronti raga per tornare nella stagione 4 grazie al nuovo jetpack Zerbian, bro siete pronti? Oggi raga grazie alla nuova modalità appena giunta in squad, quindi saremo oltre contro squad, si sarà abbastanza difficile Potremmo ritornare a giocare insieme al nuovo jetpack e sarà qualcosa di veramente stra divertente, dove andiamo a prima partita? Mmm... Palmetto Corso? No non corso, palmetto Palmetto va bene Poi raga considerate che ho appena registrato un video su un nuovo aggiornamento e Fortnite sta andando in generale veramente veramente male Cioè nel senso, è proprio sembra che laggi però non lagga in realtà È qualcosa di assurdo, in realtà non capisco nemmeno di quale sia il problema, però dopo ogni aggiornamento lo fa, quindi ormai ci siamo abituati Io vi ricordo raga, un bel like se volete un altro video del genere, oggi obiettivo 15, facciamo 15.000 like Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella per l'opera di tutti i prossimi video, perciò tastare se iscrivetevi, fai ancora la campanellina Instagram, cap to blazer officiale, vi ricordo raga che hai 200.000 supportatori che utilizzano il codice cap nel negozio oggetti, ma stessa supporta un creatore Finalmente vi mostrerò la mia stanza, me la state chiedendo in tantissimi e raga 200.000 supportatori, al momento siamo circa 162.000 Ve la mostrerò assolutamente, oddio che cosa ho trovato come prima arma, oh mio dio raga, lanciarazzi quadruplo Lanciarazzi quadruplo? Non lo vediamo da, esatto, non lo so No vabbè raga, che figo, un altro, oh ma aspetta, c'è qualcosa che non va, è il doppio lanciarazzi quadruplo che trovo, voi che cosa avete trovato per ora? Due lanciarazzi Lanciarazzi Ma come? Ah beh, aspetta, è il volo esplosivo Raga, ci serve il jetpack Ci sono anche i palloncini Ehm, sì, sarebbe figo, sai che non lo so No raga, c'è il nuovo arco esplosivo No raga, è fighissima questa modalità Ok, allora, abbiamo tutti i veicoli a disposizione, solo che non sto trovando jetpack Qualcuno di voi l'ha trovato per caso? No Ok, mi sa che è molto raro in questa modalità Comunque sì, il mio obiettivo è fare il doppio lanciarazzi normale raga, perché sì, il quadruplo è figo, ma il normale spacca di brutto Ehm, voi come scudo come siete messi? Due lanciarazzi, jetpack e arco Hai trovato tutto praticamente, bro? Sì, tutto Bro, te lo chiedo solo come un piccolo favore, consideralo un piccolo favore Mi fai provare il jetpack, ti prego, sono troppo curioso, grazie E vabbè, ma arrivi proprio di stile, bro No, che figo, ma aspetta, com'è che si consumava? Ok, volo così Ah, e basta, cioè praticamente ti facevo solo volare, giusto? Non facevi altre cose Esatto, esatto Ok, ma si consuma un botto lento, io pensavo molto più veloce Ma col jetpack, se uno è in volo, come si fa? Come fa ad essere colpito dai razzi? Ehm, arco Non viene colpito? L'arco? Sì, arco che so io L'arco, sì, praticamente l'arco ti prende Infatti, raga, l'arco in questa modalità per me è fondamentale Se tutti iniziano a volare come delle cavolo di farfalle, come fai a prenderle? No, vabbè, ragazzi, facciamo la combo con il jetpack e questo coso Dove cavolo finiamo? Cioè, jetpack più... com'è che si chiama? C'è gente da me, c'è gente da me Ok, arriviamo, arriviamo Ragazzi, se vi servono un po' di razzi, venite da me Stai scherzando? Bro, mi prendi in giro? Quanti cavolo sono? Quanta gente c'è, raga? No, vabbè, bro 121 Vai, lasciamoci questa e prendiamo... ok, perfetto Lì, di gap, lì, di gap Dov'è? Sì, ok, adesso sì Dove sono? Che gli tiro una bella arcata in faccia No, no, non ci credo Oh, cavolo, ce ne sono altri blu Attento, lo sono solo questi, eh Sono più team, raga Sì, 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 sono veramente troppi Raga, questo però è tutto, troppo chissimo Attento Oh, cavolo, basta Uno è tato? Bravo, ok Con l'arco Solo che non capisco esattamente dove siano Uno morto? Quello di balla? No, no, non balla ancora, ok Raga, avanziamo sinistra Attenti Vai, gli tiro la granata e balla Balla, perfetto E vai No, era mio questo, eh Non chidatevelo È mio Sì Ok, mi sa che prendo l'automatico, è molto molto più comodo Alzi Cavolo Troppi, 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 troppi Arrivo Porto No, mi sono colpito da solo Ma come? Come fai a salto così sveglio, Zerby? Vai, vieniti, non, scidino Siamo già in 28 Chiedi come si è messi, penso molto male Eh, due, zero e una Eh, sì Bru, oggi Oggi non ci stai cariando, eh Con il nuovo aggiornamento, raga, hanno bloccato la risoluzione da 4 terzi e 16 noni E bru Dividi, vedi, cap, nord-ovest Dov'è? Ma nord-ovest è davanti a me? Oh, cavolo Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando Ah, dietro quell'albero Eh, se, vabbè Eh, raga, io sono tarato Eh, io ci provo, ma Eh, infatti non l'ho preso Aspetta, tira un altro braccio Eh, se, vabbè, dietro l'albero Un altro morto con l'arco Zerby, ma sei una bestia Cos'hai fatto oggi? Bro, hai 4 kg, ma sei serio? Eh, sì, lo so che hai forte l'arco In questa modalità poi No, aspetta, aspetta, aspetta Ci sono i furgoni di risponere anche in questa modalità No, vabbè, che figata Quindi, praticamente, possiamo risponere anche in questa modalità Una figata incredibile Altri? Dove sono? Eccoli Sopra la montagna Perfetto, grande Eh, sto sopra Preso con l'arco No, non ci credo Zerby, come fai a prenderli? Ti prego, dammi qualche coordinata Non lo so Entra, c'è quello là sotto Vai Vai che lo prendo Vai che non lo prendo Zerby, adesso ti metto i muri davanti Così magari non li prendi Così magari non li prendi Esatto, aspetta Quello lì è in volo, attento Oh Dai, è una cosa incredibile, raga Io con l'arco Oh, ok, l'ho preso Ma non gli ho fatto danno Qua, raga, mi fanno esplodere tutto Come fanno esplodere tutto Naggia loro Ma questo qua Oh, mi hanno distrutto Ma questo, raga Aspetta Sono troppi, raga Da me sei riuscita Mi date una mano Io sono one shot, raga E anche io Molto, molto, molto one shot Eccolo, eccolo Oh, mio Dio È qua giù, eh Zerby è verso 60 Ma buono intanto Eh, io sto qua, sto fai dando Eh, raga, un altro team Qualcuno ha un rift? Non ci credo No, non ho un rift Zerby sono da me Oh, mio Dio Arrivo, aspetta, capo Fermo un secondo, non pushare Non pushare, non mi muovo, fidati Oddio, raga Che casino Solo 33 di materiale Eh, vabbè, se Raga, non posso fare niente Che casino Morto un altro Bravo Zerby è riuscimermelo Ma non stermi in te Eh, sono morto No, Zerby, no, bro No, bro Ne abbiamo preso uno Io non posso fare niente, ragazzi Aspetta Aspetta, è qua da me Preso 80 L'ho killato Prenditi la mia scheda Prenditi la scheda Eh, bro Adesso la vengo a prendere Raga, devo fare il medico Cap, sei un attimo safe Aspetta L'ho killo Avevo qualcosa Prendi la mia scheda, cap Va bene, arrivo, arrivo Dove era la tua scheda? C'hai un minuto Sopra, sopra, sopra Ok Va bene, va bene Così mi rianimi C'è un tizio Zerby, alzò due Ho chiedato uno Non ci credo, no Ma ha chiedato lui No, Zerby No, Zerby Dall'alto, dall'alto Eh, lo so che dall'alto No, Zerby finisce Ok, no Non sto pensando a me Per fortuna Chidalo Se gli finisce il jetpack Se gli finisce il jetpack Così rido proprio Occhio le dnt Attenti, via lontano Continua a volare con altri jetpack Mi sa che bro è morto 34 secondi Eh, raga, un po' infattibile Zerby, attento Sopra di te A destra Non ho più colpi Non ho più colpi Non ho più colpi No, Zer Ti prego Zerby è morto Corri Corri, corri, corri Presta, presta Presta Ok, no bro Ti sacrifici così per me Non ho mazzo Oh mio Dio Grazie bro Io ne ho 414 Te ne posso dare qualcuno Appena mi rassi Mamma mia, raga Bro, se riesco a prendere la tua card Ce la faccio Sì, sì Vedresti farlo Veloce, veloce Veloce, veloce Veloce, veloce Vai a prendere la card di bro Veloce Oh mio Dio, grandissimo Ok, vai, vai, vai Oh mio Dio, per due secondi Bello, bello Che tensione Raga, qua ce ne andiamo nel muro Da quanto tempo è che non lo vediamo Guardate quanta vita ho io, raga Quanto vai, giuta Vai, vai, vai al camioncino Zerby, non puoi divendere Dov'è il camioncino? Devo muovermi a prendere tutto il resto Cildini Stapo, mi servono assolutamente i colpi Se mi vengono Colpi le cose, colpi le cose No, colpi ne ho sbagliato Materiali Materiali Io materiali ce li ho 9, 9, 9, Zerby No, ci sento qua Zerby, devi venire da me Non puoi andare No, Zerby Hai fatto una cavallata Sto facendo mazza Fidati che hai fatto una cavallata Guardi che mi prendo il doppio Parano Zerby, devo arrivare da te per forza No, Zerby, non ci credo No, Zerby, non ci credo Eh, bro Allora non mi conviene Non mi conviene arrivare da te Oh mio Dio Però te hai la scheda di bro, cavolo Potrei fare una bella mossa Solo che è difficile Eh, no, non ce la fai Cavolo, è troppo difficile Aspetta Cerco di andare fuori safe, magari Speriamo che non mi vedano, raga Siete in 7, capo Zerby, come faccio? Con quello lì mi ha puntato Sali te, sali te Zerby, devi salire te No, Zerby L'hanno chillato Non ci posso credere Zerby, se prendo la tua scheda Ti posso restare Oddio, raga Se facciamo il rest del rest Eccola lì, eccola lì Devi scappare subito, eh La prendo La prendo e scappo Dov'è il furgone? Eh, vabbè Guarda dove cavolo è Aspetta, aspetta Un idiona Un idiona Ok Veloce, veloce, veloce Oddio, raga Mi continuo a sparare Non so, grazie, via, via, via Corri, 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 corri Oddio No, no, no Fermi, fermi, fermi Vuoi rialzare tutte e due, eh Sì, raga, lo so Quanto ho di cooldown? 10, 10, 10 No, no Ok, raga Ce la posso fare Ho 10 secondi di cooldown Non ci posso credere Eh, però Mi prenderà safe Vabbè, prega niente So che sto facendo una brutta mossa A farlo così, eh Adesso ti cecchino Stai attento Oddio Eh, non posso muovermi, bro Sono proprio bloccato Oddio Veloce, veloce Vai, andiamo, andiamo Cosa? In che senso? Questa scheda di richiesta Mi servono armi Mi servono armi Vai, bro, ok Eh, materiali, materiali Tieni armi e tieni materiali Ma raga, anch'io ci sono Come ci sei anche te? Scherzi Ma che ci sono anch'io? Vi ho risalto entrambi Non ci posso credere Colpi, materiali, qualunque cosa Ce l'abbiamo uno davanti Schilla, lo capo Lo killo Eh, vabbè No, 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 raga No, vabbè No, 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 vabbè, raga Non ci credo Ok, ma stai scherzando Siete seri O è uno scherzo? No, raga, l'ho preso Ma, con l'arco? Sì, guarda, raga Ma guarda che l'ho No, no, raga L'ho preso con l'anzarazzi Gli ho fatto 100 No, no, vabbè Ma questa gente esiste veramente Fatti prendere Fatti prendere Uno morto Perfetto No L'altro dietro Non sopra dove Non sopra dove Oddio, no, 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 raga Basta Come mi ha preso? Lascia perdere, lascia perdere Oh mio Dio Bro No, bro Non ci posso credere L'ho fatto veramente Non ditemi che l'ho fatto veramente Raga Il video è già perfetto così Io vi adoro Io, raga Non posso non caricarvi queste perle Oggi Oggi non abbiamo fatto una win in tutto il giorno Ma non posso non caricarvi queste perle Sono qualcosa di fantastico Io vi ricordo Un bel like se volete altre sfide del genere 15.000 like è l'obiettivo di oggi Ovviamente andatevi a iscrivervi anche a tutti i loro canali Sotto in descrizione Sono quattro pazzi Perciò andatevi a iscrivervi anche Siamo in due Siamo in due Vabbè, ok Non mi interrompete Dicevo sono due pazzi Perciò andatevi a iscrivervi anche da loro Vedete questo Vi ricordo Ora quando Che il link del mio secondo canale In cui facciamo un botto di live con T-Blaze In questa altra descrizione Perciò ragami raccomando Iscrivetevi al secondo canale E questo venerdì Dalle 8 di sera Ci saranno i salari privati Perciò non perdetemi Iscrivetevi al canale Appunto Ovviamente vi ricordo Negozi oggetti In basso adesso Supporta un creatore Se vi ricordate C'è cap Se volete Finalmente Una nuova challenge incredibile I 170.000 supportatori Mentre i 200.000 supportatori Finalmente Farò il video Della mia stanza Al momento ragazzi Siamo circa 162.000 Perciò obiettivo 200.000 supportatori Perciò raga Mi raccomando Condividete a tutti i vostri amici Nonni, zii, cugini, dinosauri Forni, microondi Insomma Tutto quello che avete in casa Il codice cap Mi raccomando Inoltre non scordatevi di Instagram Che per il video E ovviamente Iscrivetevi al canale Attenendo la campanella Per guardare tutti i prossimi video Detto questo Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao